Sei concerti d'organo all'interno delle chiese basiliche storiche più belle di Verone, quanto propone anche quest'anno l'Associazione Chiese Vive in occasione della solennità dell'Assunta. L'iniziativa è nata dalla fantasia inesauribile del Monsignor Antonio Finardi, già Presidente di Chiese Vive, a cui vanno i nostri migliori auguri. Quest'anno proseguiamo con una proposta, una rassegna di concerti organistici a partire da domenica sera 13 fino a mercoledì 16 agosto. Sono concerti nelle chiese storiche del centro, le quattro chiese, San Zeno, Cattedrale, San Fermo e Santa Anastasia. Ovviamente abbiamo l'attenzione ad altre chiese stupende, come quest'anno Santa Maria in organo, che è oltre l'Adige, che avvierà questo percorso e da ultimo San Nicolò all'arena. È questo il modo, l'opportunità, l'occasione per ascoltare dell'ottima musica in contesti da scoprire, riscoprire e ammirare? Sì, l'organo, sappiamo, è lo strumento principe nelle nostre chiese, dà tantissime emozioni. L'Associazione Chiese Vive ha pensato a questa iniziativa proprio nel cuore del Ferragosto non solo per raggiungere una iniziativa, le tante che troviamo nella nostra bellissima Verona, ma soprattutto per coniugare la bellezza, l'arte, l'emozione musicale con la bellezza dei nostri templi e quindi lasciar portare un messaggio di spiritualità, di gioia, attraverso dei percorsi di vari compositori europei che ci hanno dato dei brani immortali. Si comincerà proprio a Santa Maria in organo alle 17.30 del 13 di agosto per concludersi alle 18.30 del 16 agosto nella chiesa di San Nicolò all'arena. Grazie a tutti.